Luigi Rossi ormai consigliere comunale a quarto dopo la candidatura a sindaco. Purtroppo lunedì pomeriggio durante una manifestazione al Movimento 5 Stelle un episodio molto ingrescioso. Cosa è successo? Sono stato avvicinato dal signore originale di Griscio Enrico, il quale mi ha sputato in faccia ripetutamente volgendo verso di me offese e minacce. E' un evento che è al vaglio della magistratura e degli inquirenti, quindi sul punto credo sia opportuno non esporre ulteriori dettagli. Quello che è scandaloso è che questo signore è un candidato al Consiglio Comunale di quarto, lo è stato in passato, potrebbe essere eletto e rappresenta una parte dei cittadini. Avvocato, questo gesto può essere di peso dal fatto che lei pubblicamente ha appoggiato il Movimento 5 Stelle in questo ballottaggio? La vita è fatta di scelte, di coraggio, di responsabilità. Non conosco le motivazioni di questo signore. Presumo che possa essere questo uno dei motivi che ha indotto questo gesto ignobile e credo che qualcuno debba riflettere rispetto ai candidati a consigliere che ha nella propria lista.